Sono Luca Mattioni, vicepresidente del gruppo Ferti Tecnica col Fiorito. Siamo presenti qui al Cibus con dei prodotti nuovi, con un marchio Viver Bene Naturalmente, dove appunto presentiamo delle linee basate su zuppe di legumi e verdure, fiocchi di legumi e mix di fiocchi di legumi con verdure disidratate. Per dare un valore aggiunto abbiamo scelto la certificazione Vegan OK, la certificazione più importante sia a livello italiano ma anche a livello europeo, quindi abbiamo creato appunto questo valore aggiunto sul prodotto. Noi siamo legati a tutto il canale GDGDO in Italia e anche all'estero. Non resta che assaggiare questi prodotti che fanno molto bene e quindi Vegan OK. Noi abbiamo scelto ormai da tempo di sposare la certificazione Vegan OK perché crediamo sia un modo nuovo, moderno, attuale di rispondere alle esigenze dei consumatori, non sono solo quelle dei vegani ma anche di tutti coloro che vivono la certificazione vegana come un modo di vivere, un modo di stare meglio, un modo di sposare il benessere. L'Iso Scotti ha sposato diverse categorie, diverse modalità di offrire i propri prodotti, quindi senza glutine, senza lattosio e da oltre due anni anche questa nuova certificazione, questa nuova firma che il consumatore ci chiedeva e che quindi siamo orgogliosi e felici di mettere sulle nostre confezioni. Abbiamo già firmato tre referenze, ne firmeremo altre, abbiamo raccolto grandi entusiasmi a parte del trade, dei consumatori e dove dire anche grande passione all'interno dell'azienda. Vegan OK! Buongiorno, sono Roberto Fiorentini, titolare della Fiorentini Alimentari, sono produttore di galletti di cereali soffiati, si tratta di prodotti di origine vegetale. Noi soffiamo una dozzina di cereali, molti dei quali sono senza glutine, la maggior parte sono biologici, anzi direi la totalità sono biologici. Stanno avendo particolare successo il grano saraceno, la chia, la quinoa, il mais da sempre da noi soffiato e siamo innovativi, direi che siamo tra le aziende più innovative del settore. Ciao, sono Chiara Coricelli, la presento alla mia azienda, la Pietro Coricelli S.P.A. facciamo olio dal 1939, sono la terza generazione, l'ha partito tutto da mio nonno e oggi vi vogliamo presentare qui al Cibus la linea di prodotti certificata Vegan OK, tra i quali abbiamo scelto l'olio di semi di vinacciolo, l'olio di riso e l'olio extravergine biologico. Abbiamo deciso di certificarli Vegan OK proprio perché sono oli, a parte l'extravergine che magari è più noto, il cui processo produttivo è meno conosciuto e che quindi magari hanno bisogno di una legittimazione in più per alcune tipologie di consumatori. Vegan OK è una certificazione chiaramente che dà un'immediatezza di qualità e quindi l'abbiamo voluta abbinare a dei prodotti di elevato profilo. La nostra altra linea di prodotti certificata Vegan OK è la linea Etnos, che sono una selezione di oli dal mondo, oli vergini, biologici, di sola spremitura, di altissimo profilo organolettico e di qualità, che quindi, come dire, vengono arricchiti ancora di più da questa certificazione. Vegan OK. Questa pasta è il miracolo anche per i bambini perché far mangiare dei legumi ai bambini è una cosa difficilissima. Farle tramite una pasta diventa una magia perché nel momento in cui tu fai mangiare una lenticchia a un bambino è difficile, però se gli fai mangiare una pasta di legumi lui la mangerà e si nutrirà bene perché gli diamo le giuste proteine e gli diamo il cibo giusto, buono, genuino e saporito. Vegan OK. Questo è il nostro prodotto di punta. Lo abbiamo realizzato con olio extravergine, estratto a freddo e burro di cacao. È un prodotto esclusivamente vegetale, non ha il colesterolo e Vegan OK. Mi chiamo Patrizio Marchetti, sono il direttore commerciale della CRM. Noi abbiamo diversi prodotti vegani, siamo molto contenti di poter soddisfare anche le esigenze dei consumatori che rispettano gli animali. Vegan OK. Ciao, sono Federico Ciccarelli, sono il marketing manager Costa d'Oro e siamo qui per presentare un nostro nuovo prodotto che è il VEG, un olio extravergine d'oliva biologico arricchito con vitamina B12. Vegan OK. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Marzano di Sfoglia Torino, sono responsabile commerciale dell'azienda. Abbiamo realizzato una linea di prodotti che ricalca un po' quello che facciamo da ormai 40 anni. Il prodotto in oggetto è la Perisprint, che è un salatino già cotto surgelato che ti permette appunto di avere una pericena, una festa con gli amici, un'occasione per appunto avere un aperitivo alternativo assolutamente salutare perché non viene impiegato nel modo più assoluto l'olio di palma. Vegan OK. Ben trovati, sono Andrea Gambini, titolare della 024 Bourmet. Abbiamo piatti pronti in 60 secondi e possono stare fuori frigo. Sono prodotti adattissimi a tutti e soprattutto anche a chi magari ha poco tempo di cucinare e soprattutto per gli amici vegani. Vegan OK. Grazie. Grazie a tutti.